Fabio Campanaro, fino alle 15 di ieri avevate soltanto un punto di svantaggio dalla San Cataldese al termine delle partite di ieri, i punti sono aumentati, sono tre ma avete la grande possibilità di recuperarli subito battendo la San Cataldese domenica prossima al Presti Sì, sapevamo che ieri sarebbe stata una partita complicata visto l'andamento che aveva l'Alcamo soprattutto nelle partite in casa hanno fatto i miei compagni un'ottima partita il pareggio ci può stare perché è una trasferta abbastanza difficile adesso domenica ci sarà la partita, l'arresa dei conti cercheremo di farla nostra questa partita per cercare di annullare questo svantaggio già la testa è proiettata alle 15 al Vincenzo Presti Due pareggi nelle ultime due partite per il Gela è uno dato preoccupante oppure si guarda il bicchiere mezzo pieno? Sì, se si guarda sotto l'aspetto della classifica abbiamo lasciato 4 punti soprattutto la partita in casa dove abbiamo pareggiato però se si guarda con le squadre con le quali abbiamo pareggiato diciamo che ci può anche stare adesso l'importante è non lasciare più punti per strada e cercare di fare questa ringorsa e arrivare dove raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati inizio anno che sarebbe il salto di categoria sì, ormai non possiamo più nasconderci Tornando alla partita di domenica prossima con la Sangataldese possiamo definirla la madre di tutte le partite perché proprio in quella partita secondo un nostro punto di vista si deciderà un intero campionato? Si deciderà soprattutto deciderà le nostre sorti perché non possiamo fare un basso falso perché sarebbe fatale ecco, se noi vinciamo saremo sempre lì a giocarcela non è che se vinciamo la partita di domenica abbiamo vinto il campionato andremo a pari punti quindi abbiamo da perdere solo noi perché non possiamo più commettere errori E quanto sarà importante domenica prossima l'apporto del pubblico? Ma su questo posso stare tranquillo perché Gela queste occasioni non le lascia così al caso domenica abbiamo bisogno saranno fondamentali i nostri tifosi la porto del pubblico e infatti colgo l'occasione per portare per invitare le persone al campo perché abbiamo bisogno soprattutto di loro e poi noi faremo il resto e li lasceremo soddisfatti e quindi la porto del pubblico è un'occasione